Test di gravidanza positivo. Che cos'è il test di gravidanza e soprattutto cosa fare quando il test di gravidanza risulta positivo? Bene, queste sono le domande in cui risponderemo esaustivamente in questo video, ma prima di entrare nel vivo dell'argomento lasciate che ci presentiamo rapidamente. Io sono Matteo Silva, osteopata pediatrico fondatore di Iule, centro materno infantile di provincia di Monza e Brianza. Io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi, ostetrica dal 2013, accompagno le donne e le famiglie nel viaggio della maternità a domicilio, in studio e online. Mi trovate sul corso Preparto dove sentirete la mia voce, sentirete quella di Matteo, osteopata, la nutrizionista, la psicologa per i Natale e vi accompagneremo virtualmente per mano in questo viaggio. Assolutamente. Sul sito dottorsila.it e mattosilaosteopata.com troverete i migliori videocorsi per favorire lo sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Ora bando alle ciance ed entriamo nel vivo dell'argomento. Quindi, test di gravidanza positivo. Prima di dire che cosa fare, diciamo rapidamente che cos'è il test di gravidanza, ricordandovi che abbiamo registrato un altro video sempre sul test di gravidanza e su tutto quello che ci circonda. Che lo circonda? Allora, intanto il test di gravidanza sappiamo che lo faremo dal primo giorno della mancata mestruazione. Si può fare tramite il test urinario, quindi che possiamo fare a casa in autonomia, o tramite il dosaggio ematico, quindi con un prelievo del sangue, di questo ormone che si chiama beta-HCG, gonadotropina, corionica, umana, che sembra uno scioglilingua, che ci dice effettivamente la presenza di questa gravidanza perché questo ormone è il responsabile di questi primi giorni, prime settimane e tiene in piedi questo avvio di gravidanza. Ok, dopo questa breve intro chiediamo subito a Maria Chiara che cosa fare quando il test di gravidanza risulta positivo. Come ci dobbiamo muovere? Allora, intanto cerchiamo di non far svenire il nostro compagno, cerchiamo di rimanere tutti in piedi, perché ovviamente quelle due piccole lineette stravolgono già tutti i nostri piani, tutti i nostri programmi, anche quando è una gravidanza ricercata. Innanzitutto è bene che noi contattiamo il professionista di riferimento e questo possiamo sceglierlo fin da subito. A chi affidiamo la gravidanza, ragazzi, fa una differenza enorme rispetto al nostro vissuto, rispetto a quello che ci può proporre e rispetto alla nostra preparazione all'evento parto. Quindi sceglieremo un professionista vicino a noi, informatevi sul territorio, potrete trovare l'ostetrica all'interno del consultorio, l'ostetrica che lavora nell'ambulatorio di gravidanza ospedaliero, l'ostetrica libero professionista che vi potrà seguire a domicilio o in studio, la gravidanza, linee guida ci dicono, quindi voci un pochino più referenti rispetto a me, che la gravidanza in qualsiasi caso dovrebbe essere seguita, accompagnata da una ostetrica, perché l'ostetrica è il professionista formato sulla salute di mamma e bambino in gravidanza, quindi cercate l'ostetrica più vicino a voi che vi possa accompagnare. Cercheremo un primo contatto, un primo colloquio nel più breve tempo possibile, perché è utile scoprire, capire insieme quali comportamenti devo adottare, quale scelte alimentari, quali attenzioni devo avere per proteggere la salute mia e del mio cucciolo. E poi ci guiderà sui primissimi esami che dovremo fare. Sarà importante fare i primi esami del sangue e delle urine entro le prime 12 settimane, ma è importante anche sapere quali esami fare, perché in gravidanza scopriremo che non è vero che fare di più vuol dire fare meglio, ma dobbiamo proprio fare solo quello che è strettamente indicato e necessario da chi? Dalle linee guida e dalla nostra situazione. Quindi non fiondatevi dal primo professionista che trovate davanti, non fate tutti gli esami possibili e immaginabili, ma cercate di trovare il professionista all'ostetrica adatta a voi. Fantastico! Abbiamo registrato anche un altro video proprio sui test, sull'ecografia, sugli esami del sangue da fare in gravidanza, e lo trovate sempre sul nostro canale YouTube, sempre registrato con la fantastica Maria Chiara. Ora, c'è qualsiasi cosa che tu voglia particolarmente dire rispetto, non so, all'ostetica a cui vi riferite, o qualsiasi altro dettaglio, se no salutiamo il nostro pubblico. Sì, allora, intanto la cosa più urgente e importante da ricordare è che in qualsiasi caso, durante la ricerca a gravidanza e ancora di più con un test positivo in mano, sappiamo che dobbiamo eliminare assolutamente alcol e fumo, in qualsiasi forma, anche il fumo passivo, perché queste sono settimane cruciali per la salute e la crescita del vostro cucciolo, per cui eliminiamo tutti gli agenti nocivi. E poi, scegliere l'ostetrica adatta a voi, come possiamo farlo. Intanto, ci sono davvero diverse strade, la cosa importante è che conosciamo luoghi diversi dove possiamo trovare l'ostetrica, e ci approcciamo a questa gravidanza nella maniera più salutogenica possibile, uso un parolone, in maniera da accendere il più possibile davvero tutte le risorse di salute e spegnere tutte quelle risorse di allarme, di allerta, che di solito sono legate a condizioni di patologia e di ansia. Quindi, davvero, scegliete l'ostetrica giusta per voi. Che dire, scegliete Maria Chiara? Questo è il slogan politico, no, non è vero. Però dobbiamo sdrammatizzare, troppa competenza medica. A parte gli scherzi, vi ringraziamo di cuore per essere rimasti con noi finora, vi invitiamo ad andare sul sito dottorsilva.it, matteosilvaostopata.com, per accedere al videocorso o per dare un occhio al videocorso di Maria Chiara, il corso preparto creato in maniera multidisciplinare con altri professionisti e tutti gli altri videocorsi che ti mostreranno come favorire il mio sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Ora, se vi è piaciuto il video, vi chiediamo gentilmente di lasciare un like, di iscrivervi per rimanere aggiornati su tutti i successivi contenuti e ci vediamo nel prossimo! E in bocca al lupo! Grazie a tutti!